Abbiamo proposto insieme ad ANCE delle modifiche al codice degli appalti per fare in modo che i comuni e anche le imprese possano utilizzare le risorse che sono a disposizione e che al momento sono molte di queste non utilizzate e ferme. Abbiamo immaginato che possa essere necessaria una semplificazione delle procedure che va indirizzata sia nella fase di programmazione e di progettazione che riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti e quindi dei comuni, che nella fase poi anche di procedure di gara, che è la fase attuativa nel momento in cui i comuni possono mettere a disposizione delle imprese le risorse che hanno a disposizione per gli investimenti pubblici. Ad oggi il 60% del tempo si perde per le procedure, il 40% del tempo si utilizza invece per l'esecuzione dei lavori. Questo comporta ovviamente delle diseconomie e delle problematiche nel programma dei sindaci e dei comuni italiani che hanno tempi ridotti per l'esecuzione dei lavori pubblici. Abbiamo chiesto di ritornare all'appalto integrato sulla base del progetto definitivo in modo da ridurre i tempi di progettazione, realizzare prima le opere e di semplificare tutte le procedure negoziate a disposizione soprattutto dei piccoli comuni.